Se anche voi avete fatto la prima comunione Lasciate un bel mi piace Buongiorno ragazzi Oggi è il grande giorno Per la comunione di mio fratello Buongiorno, buongiorno, allora Tutto bene, non basta Come procede, come procede Mi sta distruggendo Aspetta, aspetta, non sta a fugo Papà come procede, buongiorno Oggi è il grande giorno Ragazzi siamo contenti E' una bella cosa La comunione Anche se non se lo merita Perché è un ciccio Grande, grande Andiamo dalla madre Vediamo la signorina Teresa Buongiorno, lei è la madre Sì, sì Allora, come procede, come procede Buongiorno Allora, la giornata Diciamo, è buona, è buona Sì, sì E stiamo iniziando tutti i preparativi per questa grande festa E' vero? Certo Bene, molto molto bene Ma ora andiamo dal festeggiato Festeggiato Buongiorno Buongiorno Oggi è il grande giorno della tua prima comunione Come ti senti? Noi però Un po' D'ansia D'ansia? Sì Sì, sono io 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 Oggi è giorno più bello La comunione di mio figlio Ah, che bello Oh, che bello Oh, vincerebbe che mi avevo buon salato Stai giocare Ecco l'outfit di mio fratello Bellissimo Super stupendo Wow Allora Come ti senti? Lo so Bravo Salve ragazzi Questo è il mio outfit per la festa I preparativi stanno procedendo Ora andiamo Tra poco andremo sul ristorante Vi farò vedere come vestite mia madre Come vestite i miei padri Come si mi ha Eh Sì 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 Ecco qua Mia mamma Mammina Allora abbiamo fatto le foto per Cristian Tutto a posto E ora fra poco andremo in chiesa Per poi andare sul ristorante Procede bene Procede Tutto bene Perfetto Alla grande ragazzi Number one Number one Che cazzo gioca bro stars Allora ragazzi E' importante Fare una festa Ovviamente Qui procede tutto bene Ci siamo messi di bene Allora poi andiamo a mangiare Ma i miei primi in chiesa però Perché la prima comunione E' importante per Appunto il corpo di Cristo Che tu Metti nel tuo corpo Per la prima volta Io ovviamente Per questo video E per questa festa A mio fratello Perché Penso che sia la festa più bella Che abbia mai fatto Appunto a mio fratello Vi invito a lasciare un bel mi piace Un bel commento Iscrivervi al canale Se anche voi avete fatto la prima comunione Lasciate Un bel mi piace E inoltre seguitemi anche su Instagram Perché è importante Aniello Cozzolino Cosa farei? Allora come siamo? A piedi? Oh no Tu stai vestendo pure tu Oh no La vita È come una brioche La vita nonno La vita è una brioche nonno La brioche No La brioche nonno Ora voi Oh no Vireteci a pensare Gli hanno stretching Vado la vada Dì Dì Ciao Quindi ripeto Mo andiamo in chiesa Ovviamente non posso riprendere Con la videocamera in chiesa Poi andiamo sul ristorante Riprenderò sul ristorante Qualcuno Se qualche parente Vuole essere ripreso Lo riprenderò E Quindi ci vediamo dopo Ciao Cristian Saluto Papà 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 Alé ragazzi qui siamo al ristorante saluta Ciro saluta lui è Ciro 1926 stilista, modello, attore Vincenzo Massimo e poi abbiamo la signorina Maddalena che purtroppo però è giumentina ragazzi ora arriva il cibo, il mangiare mangiamo, faccio il vettoroso ragazzi c'è un assaggio è buono assaggio del salato abbiamo solo tagliato facciamo questa un appetito continuo a mangiare dopo l'antipasto non si ferma più allora dopo l'antipasto cosa c'è? allora c'è la seppia con i piselli cozze e bongole che abbiamo finito qui l'amico mio Ciro si ha ricettato 8 cose eccolo qui com'era? 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 buono? ottimo? roba fresca eh? tutto esquisito ah ok ragazzi assaggiamo la seppia con i piselli buono la patata la patata è ottima devo dire la verità i piselli non mi piacciono 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 riuniti oggi in famiglia volevo che zio peppino facesse il discorso oggi è giusto è giusto vai zio peppe allora la vita è bella la vissuta ogni giorno chi ha la possibilità lo faccio per cento anni per cento anni a tutti saluti a tutto il mondo e pace per cento anni a tutte le famiglie bravo auguri auguri allora ho secchi alla cacca eccolo qui festeggiato allora come procede? vale grande allora fate un saluto ciao ragazzi il primo primo allora questo è una pasta particolare particolare assaggiamo si manca è squisito molto saporiti allora ci sta una sorpresa per festeggiare tutto veloce che com'è per chi sei festeggiato? si allora ci sta una sorpresa veloce che è è qui festeggiato? si allora siete pronti per la sorpresa del nostro festeggiato? si ma non è vero 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 tutti quanti ooooh 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 viene Nino Tarcino resta qua però resta qua tutti quanti forza ooooh oooh oooh ma che cos'è questa sorpresa? è per me grazie ma grazie e facciamo un applauso a Cristian Cristian ti è piaciuta la sorpresa? la parte mia mamma e papà ecco il piatto il secondo primo prova buono sempre un altro intenditore lui ha lavorato con chef cracco barbieri cannavarciolo gente importante vediamo com'è com'è ho detto com'è è buono bravo anche se non c'è abbastanza luce assaggiamo pure noi ragazzi siamo al terzo round mamma mia voglio il terzo primo e ovviamente Ciro Cipio non mangia perché deve fare l'assaggio il live qui com'è questa massa ai fagioli e ha portato anche un altro piatto abbiamo oggi abbiamo tre piatti per il nostro chalet boom zai 3 3 3 piatti facciamo un piccolo discorso io era santo oggi è buono questo è mio nonno ragazzi è mio nonno piccolo discorso da te ehm discorso però filosofo no no dopo aver mangiato i discorsi sono quasi due parole due parole due parole due parole bei agli elected mal�戲 adicò con questo bene Perché Nambi è la nostra vita, la squadra che ci fa seguire. Buon applauso a Dio Peppe! Ottimo, tutto ottimo! Questo è il primo pesce, cioè il secondo, no, il secondo pesce, cioè il secondo, primo, secondo. E ovviamente assaggiamo anche noi, pesce spada. Ciò è venuto anche, lo so che è venuto, ci vediamo dopo con un altro pollo. E' vero, youtube! Vedi, adatta la voce! Vedi, adatta la voce! Non te, me lo faccio la brucia. E' vero! C'è una cosa sotto! Allora ragazzi siamo giunti al termine di questo video Alla fine di questo video È passato praticamente quante ore sono passate Siamo nel giorno dopo la festa della comunione Non ho praticamente ripreso la torta e la frutta E la parte finale perché veramente non si capiva niente È stato troppo casino Ora è mattina, ci siamo riposati Allora considerazioni finali per questa super festa Penso la tua miglior festa che tu hai avuto Sì Eh? Come? Dove ti è sembrato? È stata bella Mi sono divertito molto I miei amici No Come avete visto pure Ho avuto dei regali bellissimi Il telefonino, il viaggio Dove registriamo anche il vlog ovviamente Quindi se questo video per questa super sorpresa a mio fratello vi è piaciuto Lasciate un bel mi piace, un bel commento Iscrivetevi al canale Niente, il video può finire qua Noi ci vediamo ad un prossimo video Mi raccomando seguitemi sempre Da me e dalla festa di mio fratello e da mio fratello è tutto Noi ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao Un bacio Noi ci vediamo al prossimo video Noi ci vediamo al prossimo video